Eccoci, mister. Allora, una partita, una prestazione ottima dell'Udinese, ma sembra quasi di commentare un film già visto. Tante, tante occasioni da gol. La squadra che gioca e gioca bene non riesce a capitalizzare e poi rischia quasi la beffa prima del gol di Rodrigo De Polle al finale. Sì, alla fine è paradossale che dobbiamo essere contenti di andare via con un pareggio, perché per come si era messa abbiamo cominciato a vedere i fantasmi. Dal punto di vista dell'allenatore faccio fatica a dire qualcosa ai ragazzi, perché dal primo minuto l'atteggiamento dal mio punto di vista è stato eccellente. Abbiamo aggredito l'avversario fin dal primo minuto, dopo un minuto e mezzo abbiamo avuto la prima occasione, dopo tre minuti abbiamo avuto la seconda occasione. Siamo riusciti a fare 25 tiri verso la porta avversaria e contestualmente a subire veramente molto poco. Però poi, in virtù del fatto che non siamo riusciti a concretizzare questa mole di lavoro, ti viene anche qualche paura, vieni da tre sconfitte consecutive, il che dà maggior merito nella capacità della squadra di produrre calcio. Però poi magari ti spaventi, poi ti fai gol da solo come è capitato a noi oggi. Da un punto di vista mentale, psicologico, secondo lei quale può essere la reazione della squadra? Vedendo che comunque c'è fiducia in quella che è la proposta di gioco e nelle prestazioni, può subentrare proprio quello scoramento e dire giochiamo così bene eppure siamo qui a dover commentare un pareggio? Le rispondo che comunque in un momento in cui pochi ci credevano io ho visto una reazione di rabbia. Il gol che abbiamo trovato noi del pareggio è una reazione di rabbia, rabbiosa. È un gol dove due centrali difensivi fraseggiano al limite dell'area avversaria e abbiamo tutti che si buttano dentro per provare a fare gol, quindi è già una reazione di non voler accettare una beffa come quella che sarebbe stata. La vigilia aveva parlato di partire da Spartiacqua per vedere il sole e restare impigliati. Come accoglie questo pareggio? È chiaro, siamo ancora a caldo, considerando anche un po' gli risultati agli altri campi. Ripeto, ovviamente siamo ancora a caldo. Non abbiamo né virato verso il sole né siamo rimasti impigliati. Abbiamo, e non è poco, interrotto una striscia di sconfitte e oggi sarebbe stata particolarmente immeritata. Abbiamo posticipato di una settimana il nostro orizzonte preparandoci ad affrontare delle squadre in grande salute come ritengo siamo anche noi in questo momento.